Salve a tutti e benvenuti in questo tutorial. Oggi parliamo della piattaforma online con Cilio Web, una piattaforma fatta dalla Gcom per gestire le controverse con gli operatori PTV, di telefonia sia fissa che mobile e internet. Mediante questa piattaforma, l'utente può gestire le controverse con gli operatori. Ci sono due modalità di ingresso che si deve registrare. Io consiglio l'ingresso mediante speed. Cliccate qua, entra con speed, scegli l'operatore speed che hai il certificato ed entri. Con questo modalità di ingresso non sarai costretto a inserire i tuoi dati, documento, codice fiscale, nome e cognome eccetera eccetera. Se invece non hai speed, cosa molto negativa, perché speed è un servizio per le pubbliche amministrazioni ed è completamente gratuito, non costa nulla. Se lo richiede alle poste o alla team ci sta anche altri operatori che lo fanno gratuito e basta andare qui in questo caso. Vedi, sistema pubblico di identità digitale, richiedi speed e qua ci sono tutte le varie informazioni su quelli gratuiti e quelli a pagamento. Ok? Allora, detto questo, se invece non vuoi proprio avere lo speed, allora fai creare il tuo account. Qui dovrebbe mettere il codice fiscale, poi qua devi mettere l'email, attenzione a non inserire le pecche, è importante. Allora, cosa vuol dire non inserire le pecche? Le pecche non possono essere inserite perché? Perché essendo una posta certificata non è detto che funzioni con le mail normali. Ok? Perciò inserite un'email qualsiasi. Ok? Gmail, Yahoo, eccetera, eccetera. Mettete il vostro cellulare, password, l'informativa della privacy. Ok. Allora, c'è la procedura anche non telematica. Ve la sconsiglio, neanche la andrò a toccare perché non è proprio il caso in questo periodo queste cose qua. E perché ti devi andare di persona, è molto complicato a livello burocratico. Allora, vediamo, qua, vabbè, devi spuntare un letto di comprensione informativa. E anche questo, il letto di comprensione informativa, consenso l'utilità, mantenga attività della mia utenza, eccetera, eccetera. Vai, continua. Qui, naturalmente, dobbiamo scegliere, scusa un attimo. Allora, qui dobbiamo mettere i nostri dati anagrafici. Ok? Nome, cognome, data di nascita, sesso, provincia di nascita, eccetera, eccetera. Inserire il documento e scanalizzarlo. Ecco perché è meglio entrare con lo speed. Andiamo qui. Allora, se sei un libero cittadino, non sei, la controversia non è per un'azienda, ma è per una utenza domestica, vai su continua. Devi fare il controllo anti-robot, salva e cliccare salva e invia. Ok? Molto, molto semplice. Dopodiché, cosa succede? Che, praticamente, scusami, la procedura viene registrata, cioè viene inserita, la procedura telematica viene inserita e poi tu la dovrai gestire nella tua home page. Ok? Questo è serie di un altro tutorial. Ciao e al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.